arresto dentro via dai corri 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 a prendere quella corri a prendere quella bravissimo si ok veloce a prendere questa palla chi tocca la lorenzo? ok vai loren, rapido loren, arresto lì dentro, fermo, bravo loren rincorri quella palla rincorri quella palla rincorri la rincorri la rincorri la rialzati bene e rincorrila senza problemi